Musica Sta per avere inizio in piazza d'Urbisaglia la Domenica Arancione è una delle tante manifestazioni che in Italia si svolgeranno per promuovere i comuni, la bandiera arancione e non solo ma anche il primo evento della nuova e rinnovata amministrazione del sindaco Giubileo al suo secondo mandato e andiamo proprio con il primo cittadino Paolo Francesco Giubileo a conoscere questo evento e soprattutto cominciamo da questa nuova amministrazione Buongiorno, vi ringrazio per essere qui Sì, questa è un'amministrazione che è in continuità ma all'interno vede una grande partecipazione di giovani consiglieri comunali di Urbisaglia e quindi danno anche una grossa prospettiva per il futuro per l'amministrazione di questo comune e anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutto quanto il gruppo che ha organizzato questa manifestazione con grande passione e grande spirito di sacrificio quindi le ringrazio e quindi oggi anche il tempo ci assiste sarà sicuramente una bellissima giornata Nella nuova amministrazione, continuità della linea Giubileo possiamo così dire ma anche molte quote rosa giovani ma anche donne molto determinate e lo stiamo vedendo già da questa mattina Sì, sì, assolutamente e naturalmente la Giunta è composta da due donne quindi che va da una parte in continuità amministrativa perché l'assessore della cultura Cristina Rà viene dalla precedente esperienza amministrativa e il vice sindaco quindi una giovane Marta Pantanetti che appunto dà questo sguardo al futuro per questo comune quindi sicuramente un gruppo giovane importante e come dicevo prima che guarda al futuro quindi buon lavoro a tutti quanti perché ce n'è bisogno le cose da fare sono tantissime e avranno modo, come dire, di sperimentarsi e di lavorare per i prossimi cinque anni perché siamo all'inizio quindi questa è una prima iniziativa Questa è una prima iniziativa abbiamo usato più volte il termine giovani perché oggi sono i giovani protagonisti anzi proprio i più piccoli che faranno anche da guida ma senza però lasciare indietro il passato perché poi ci sarà un proseguo nel pomeriggio con la festa degli anziani e la festa dei nonni Sì, questa è oggi la festa come dire di Bandiera Arancione un brand importantissimo del Touring Club anche perché la Bandiera Arancione è anche difficile da acquisire questo brand perché pensate che in Italia solo il 10% di chi ne fa richiesta poi si vede attribuire la Bandiera Arancione proprio perché ci sono dei criteri molto importanti da rispettare quindi per noi è una situazione di orgoglio per questo Paese oggi è appunto questa manifestazione che si svolge a livello nazionale e come diceva lei partiamo dalla piazza per varie iniziative dalla caccia al tesoro convergiamo i ragazzi stasera ci sarà un momento anche per i meno giovani che però insomma concluderanno questa bellissima giornata per coinvolgere tutti i cittadini e per i cittadini urbisaia riscoprire il proprio Paese per chi verrà di fuori per vedere le bellezze di questo Paese che sono tantissime che vanno, ripeto, dai prodotti che saranno esposti oggi dal parco archeologico da tutti quelli che sono i beni culturali ma anche nello splendido ambiente è un territorio meraviglioso che vale la pena sicuramente vedere e anzi di ritornare studio 7 e sempre da Urbisaia con la domenica arancione anche un'occasione per andare a conoscere i prodotti del territorio e lo facciamo con il nostro primo ospite con Marco dell'azienda agricola bio Le Tre Querce buongiorno Marco buona domenica e parlaci un po' della tua azienda e dei numerosi prodotti che quest'oggi portate in piazza ad Urbisaia buongiorno a tutti voi la mia azienda è una piccolissima azienda qui di Urbisaia presa diciamo in gestione da me da 4 anni è un'azienda certificata da molto tempo certificata in bio ci teniamo a dirlo perché siamo un po' consapevoli di tutto quello che è il mercato attuale dell'alimentare quindi noi siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi specie nei grani con i grani antichi produciamo miele produciamo legumi e trasformiamo poi i cereali in farine ci adoperiamo diciamo la vendita con la presenza sui mercati locali con varie associazioni e che di lavoro ce n'è moltissimo dietro ovviamente e non solo per trovare sempre nuovi prodotti nuove qualità ma poi anche il modo e le modalità di proporli sul mercato qualcuno si avvicina anche ormai all'e-commerce anche in questo campo diciamo che la mia storia è particolare nel senso che io ho gestito commercialmente varie aziende per 33 anni ho fatto direzione commerciale di varie aziende di un altro campo quindi sto applicando un po' la mia esperienza a quello che è lo sviluppo dell'azienda è quello che dovrebbe essere per le aziende agricole oggi un po' facciarsi alla distribuzione diretta noi a piccoli basi ci stiamo riuscendo aiutati fortemente anche dalle nostre associazioni di settore per l'e-commerce ci stiamo un po' avvicinando a questa cosa però è un progetto che sta nel cassetto per ora dobbiamo prima fortificarci nel territorio quindi proprio la presenza costante nei vari mercati per far sì poi che anche noi abbiamo la nostra clientela per promuovere l'azienda per il momento in questo senso poi stiamo facendo anche un piccolo sito web con tutti i nostri prodotti e poi di conseguenza arriverà anche l'e-commerce ma considerate che la gestione dell'azienda la faccio da solo quindi è un po' problematico gestire tutte queste cose e infine per chi volesse conoscervi meglio non solo sulle piazze su eventi particolari e anche come potrebbe contattarvi conoscervi meglio noi abbiamo una pagina Facebook e siamo su Google Map quindi sono tutti i recapiti vi prego di una telefonata prima di venire in azienda perché anche lì abbiamo un piccolissimo punto vendita dove possiamo accontentare la nostra clientela grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 In più, Grazie a tutti. 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 positiva, infatti noi abbiamo iniziato quell'attività sette anni fa, sabato e domenica prossima ci ritroviamo ad aprire un altro birrificio molto più grande e quindi più a portata di mano anche perché il prodotto sembra che abbia un'ottima richiesta e ecco qua che ci dobbiamo mettere un po' nell'anima del commercio e pensare insomma di stare dietro a quello che è il commercio nella stessa parola. Ad oggi produciamo 12 tipi di birra, 12 tipi di birra quindi per un birrificio che è nato non molti anni fa mi sembra che sia un discorso positivo ragazzi quanti siamo? facciamo un brindisi al Mastio al Mastio e ai piedi della Rocca abbiamo visto anche una bella esigezione della compagnia Cripore della Scala di San Severino e con noi abbiamo Matteo, una rievocazione storica anche se in piccolo qui ad Urbisaia ma anche tante altre rievocazioni immagino della vostra compagnia noi giriamo un po' l'Italia ma oggi siamo fieri di essere la nostra terra che deve riemergere come quelle sono le origini del passato e dentro la Rocca di Urbisaia secondo me ci sono tutte le prospettive per poter veramente far emergere questo passato e noi siamo fieri portatori di questo messaggio. Riusciamo a farlo ormai da diversi anni abbiamo deciso di farlo qui nel territorio specialmente dopo quello che è stato uno dei più grandi eventi che è il terremoto siamo riusciti a riportarli in vita ricomporre un po' le pietre del passato e niente oggi siamo Urbisaia siamo fieri di essere qua speriamo di esserci anche altre volte in occasione anche ora più belle. Ci vuole ovviamente una grande passione ma anche una grande conoscenza proprio delle proprie origini e rielaborare soprattutto anche gli abiti e le varie storie del nostro territorio dal medioevo e giù di lì. Assolutamente noi come testimoni del passato dobbiamo oltre che rievocare dobbiamo ricostruire il passato ricostruendolo attraverso abiti attraverso armature armi soprattutto anche le tecniche schermistiche che abbiamo messo in atto. Questo è un grande lavoro che noi ci è dato un lavoro che noi facciamo quotidianamente un lavoro che noi facciamo soprattutto per chi per i nostri posteri ovvero per i bambini che adesso stanno crescendo e un domani dovranno essere testimoni di questa bellissima cosa che noi facciamo. Lo facciamo per loro ma lo facciamo soprattutto anche per dare forte testimonianza della nostra presenza su questo grande territorio e questo è un modo carino per poter rivocare un po' quella storia che si sta un po' perdendo e noi speriamo di farla riemergere ancora di più. serve vivo. Siamo con il vivaio Bellesi con la signora Paola non solo fiori, piante e quant'altro ma anche una mostra un po' particolare qui oggi al Domenica Arancione ad Urbisaglia. Sì, noi operiamo nel settore vivaistico ormai da tre generazioni e la nostra attività è produzione di piante anche tipo stagionali, fiorite, anche ortaggi e poi facciamo giardini, abbiamo anche piante importanti e soprattutto la passione di mio figlio sono le piante da frutto specialmente quelle autoctone, varietà antiche anche di mele e abbiamo qui una mostra pomologica curata da lui per far vedere un po' le varietà che abbiamo in vivaio, la nostra collezione. Possiamo dire che sono i colori della natura, quella genuina, quella nostrana veramente. Sì, è autunnale proprio in tema con la giornata arancione. Sì, è autunnale proprio in tema con la giornata, è autunnale proprio in tema, è autunnale proprio in tema, è autunnale proprio in tema. Sì, 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 è autunnale proprio in tema. Studio 7 Anche prodotti naturali, ne parliamo con Cristian Rozzi, la ditta Evoco, qui ad Urbisaia. Cristian, tanti bei prodotti, soprattutto naturali, di Cosmesi. Sì, buongiorno. La nostra azienda Evoco è un laboratorio appunto di Urbisaia, formuliamo, produciamo e commercializziamo prodotti cosmetici. Abbiamo tre marchi, il marchio che vedete qui dietro è il marchio EcoWai, che come diceva è un marchio di Cosmesi naturale. Quindi cerchiamo per il più possibile di andare a prendere prodotti agricoli della zona e di andarli ad inserire nelle varie referenze cosmetiche. Ricerca, accuratezza dei particolari, quanto lavoro c'è dietro? Allora, come dicevo prima, abbiamo all'interno anche la formulazione, cioè colui che va a scrivere la ricetta, diciamo così. E quindi sì, assolutamente c'è dietro una grande ricerca che cerca soprattutto per questo specifico marchio di andare a inserire sostanze naturali che vadano a sostituire quelle che prima erano più di origine chimica e che venivano utilizzate per la maggiore. E infine qual è il mercato a cui vi rivolgete, non solo diciamo uno strano, ma forse anche fuori dal territorio? Allora, innanzitutto per noi il cliente tipo è il cosiddetto consumatore critico e attento, cioè colui che la prima cosa che fa quando prende un prodotto gira e va a leggere l'Inci, cioè l'elengo ingredienti. E ovviamente questo tipo di consumatore è un po' in giro per tutto il mondo, quindi sì, sicuramente siamo una realtà locale che è partita con il mondo marchigiano e quant'altro, ma oggi ci stiamo spingendo a livello nazionale ed anche fuori dai confini nazionali, sicuramente. Siamo con Mirko Cardinali, responsabile della Biblioteca Comunale di Urbisaia e anche un appassionato, una grandissima passione per la fotografia. Memoria storica di tanti eventi che abbiamo ricostruito con le foto, grazie a lui e tanti appassionati, Mirko. Sì, la Biblioteca funziona come una Biblioteca pubblica, noi siamo, sono circa sei anni che siamo aperti. Dicevi che la Biblioteca sta nel Comune di Urbisaia, è nata da un gruppo di cittadini che pensavano fosse importante avere Urbisaia nella Biblioteca e grazie a locali offerte dal Comune e alla collaborazione che fin dall'inizio col Comune c'è stata, noi da sei anni forniamo un servizio di Biblioteca abbastanza complesso e funzionante a Urbisaia. Siamo aperti cinque pomeriggi a settimana e chiunque può soffrire gratuitamente come qualsiasi Biblioteca pubblica. Sono soprattutto i ragazzi e i bambini piccoli che utilizzano i nostri servizi, specialmente per i libri per i più piccoli. Oltre all'attività standard di Biblioteca, noi ci occupiamo anche di altre cose, facciamo formazione in Biblioteca, facciamo corsi di informatica per adulti, in realtà impariamo a utilizzare il computer perché più che corsi sui programmi, sono corsi proprio su dove si accende il computer, la prima lezione è come si accende il computer, quindi partiamo proprio da zero. E ci stanno molte persone che hanno, grazie a questo, anche a 70-80 anni, mio padre che ha 86 anni e attualmente utilizza il computer regolarmente per leggere i giornali, per collegarsi via Facebook con i nipoti che stanno in giro per il mondo. Anche questa è un'alfabetizzazione, quindi se una volta il maestro Manzi imparava a leggere, adesso la frontiera, soprattutto per gli adulti, è quella di utilizzare questi mezzi per continuare a leggere, a formarsi eccetera. Questa è un'attività importante della Biblioteca, ci siamo accorti a un certo punto che c'erano delle, chiamiamole, collezioni fotografiche, a casa di alcuni personaggi, loro sì, appassionati di fotografia, nel senso che hanno fotografato i nostri padri, noi stessi quando eravamo piccoli, praticamente da 40-50 anni ad oggi. E queste foto se le sono giustamente con tutte loro, ma guardandole ci siamo accorti che questo è il nostro album fotografico, cioè veramente è l'album fotografico delle famiglie d'Urbisaia e abbiamo pensato da una parte di poterle rendere disponibili a tutti e dall'altra di non perdere, di salvarle perché un domani chissà. E allora, d'accordo chiaramente con i proprietari, le abbiamo digitalizzate, abbiamo scannerizzato circa 10.000 documenti fotografici e è una risorsa eccezionale. Noi intanto facciamo delle occasioni per vedere insieme queste foto e dopo due o tre ore che stiamo lì, tocca a caccia via la gente perché lo smetterebbero mai, perché lì si ritrovano bambini, trovano i loro genitori adolescenti oppure il giorno del loro matrimonio. Molta gente trova delle foto del matrimonio dei loro genitori che loro non hanno mai visto. Io stesso ho trovato delle foto dei miei genitori del loro matrimonio che non sapevano che esistevano e questa è una cosa eccezionale e inoltre conserva quello che eravamo e ci ricorda come ci stiamo trasformando, come stiamo modificando e questo ci aiuta anche a cercare di progettare come saremo. Studio 7 E da una rievocazione storica in piazza mediovale ad una più in stile romano, all'anfiteatro romano, siamo con Davide. Abbiamo visto un allenamento poco fa. Sì, quello che abbiamo fatto era una piccola dimostrazione di allenamento, quindi senza la gran parte delle protezioni e senza alcun tipo di elmo. Una cosa che si faceva spesso all'interno dell'Udus per preparare i gladiatori al combattimento vero e proprio nell'arena. Ma so che hai anche un nome d'arte, tra virgolette. Sì, tutti noi abbiamo nomi storici giustamente, andare nell'arena come Davide suona un po' male. Per esempio il mio è Albus, un nome dovuto ai capelli bianchi che mi stanno venendo in giovane età. Per via dei combattimenti, no? Spero di no. Parloci poi invece dell'associazione di cui fai parte e dei vari eventi a cui prendete appunto parte nel territorio. L'associazione di cui facciamo parte nasce come Medievale. Noi ci chiamiamo Associazione Culturale Compagnia Grifone della Scala. Quello che vedete qui è la nostra branca gladiatoria. Noi siamo in Nova Bella Torres e operiamo non solo nel territorio, quindi non solo qui nelle Marche, ma in tutta Italia e anche all'estero. Abbiamo avuto il piacere di andare in Francia, Slovenia, Croazia, Olanda e in Spagna. Quindi comunque sì, abbiamo girato un bel po'. E sostanzialmente prendiamo parte alle varie rivocazioni storiche. A seconda dell'epoca andiamo con il vestire appropriato ovviamente. E veniamo chiamati lì per spiegare la nostra storia sostanzialmente, quello che spesso viene dimenticato, quello che non viene sempre detto sui libri. e per dare dimostrazioni di l'unica vera arte marziale italiana, poiché è nata qui. Quindi la scherma sia gladiatoria che la scherma medievale. Anche gli accessori d'epoca fatti a mano, presenti qui all'Anfiteatro Romano. Siamo con la signora Lucina Calzature, la signora Anna, qui con noi per presentarci i suoi prodotti importanti, di pregio e ogni numero è a sé, nessuno è uguale a un altro direi. Esattamente, ogni paio è un paio a sé, fatto su misura per la persona che le indosserà. Sia che siano storiche, sia che siano calzature attuali. Calzature attuali, storiche, comunque rigorosamente a mano e riprese anche da disegni particolari d'epoca. Tutte le calzature storiche sono riprese, sono assolutamente filologiche, riprese da dipinti, riprese da statue. Comunque sono delle ricostruzioni storiche, molto spesso lavoriamo per musei. Ieri sera ho consegnato a Roma delle calzature per il Museo Archeon di Olanda, quindi oltre questo facciamo anche calzature per il teatro, molto spesso per la scala o per vari teatri. Non solo una grande soddisfazione, ma ovviamente dietro un grande lavoro di ricerca prima e di produzione, poi ovviamente parliamo di numeri limitati. Assolutamente sì, siamo numeri molto piccoli perché logicamente a lavorare sono io, mio figlio e mia nuora, quindi è proprio una piccolissima realtà. Anche se siamo all'anfiteatro romano, però il suo abito non è molto romano, sbaglio? No, attualmente sto indossando abiti etruschi, con calzature etrusche, un abito normalissimo perché io sono un sutor, un calzolaio, quindi non ho grandi abiti, però ho un tutulus che è il classico cappello etrusco, quindi mi considero etrusca in questo momento. Grazie! Grazie! Studio 7 Grazie! 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 bellezze artistiche e quindi già i ragazzi delle scuole medie si sono cimentati nell'attività di guida con i turisti sia al serbatoio che alla Roccaso in paese e poi abbiamo fatto questa bella passeggiata fino a scendere a valle dove ci troviamo adesso. Siamo felici perché ci sono state molte partecipazioni da parte della gente quindi sappiamo anche che nel pomeriggio arriveranno altri gruppi e noi siamo qui ad aspettarli proprio per mostrare il nostro territorio. Noi ringraziamo Francesca come anche tutti i vari ospiti che abbiamo avuto il piacere di intervistare, di conoscere tra rievocazioni storiche, gastronomia e non solo ad Urbisaia e con la Domenica Arancione è veramente tutto, ridiamo la linea alla nostra programmazione. Studio Sete Tivu